salve a tutti io sono spina e bentornati io sono lion il pietraformatore guarda come ho pietraformato questa pietra che ho formato ma questo è gravel eh sbobbit la raccatta guarda l'ho raccatta io perchè neanche questo fa fare il nostro piccolo sbobbit allora io già innanzitutto c'ho un compito per te si anche io ho un compito per me sono diventato un monaco sembra un pacco regalo guarda ma che è sta roba dove l'hai presa è spawnato uno scheletro quando non c'eri e io sono andato lì e papam dov'è il mio vestitino è questo solo c'è se vuoi però te lo do è un vestito di bofflo me l'ha rubato sbobbit eh però lo puoi prendere no vabbè lo vuole sbobbit lo vuole sbobbit allora senti una cosa qua ci abbiamo da fare un paio di cosine io ti ho raccattato un botto di sassolini perchè dobbiamo avere 128 di cobblestone oh grazie ha sbobbit ha sbobbit ora sono un pacco regalo e dobbiamo collezionare questa cobblestone per sbloccare delle cose che non so cosa sono ma va bene c'è anche un'altra cosina che volevo fare tipo una mini sorpresina per te perchè so che a te piacciono le creaturine le cogine abbiamo perso un maiale tu sei molto triste e cose del genere lo so molto brutto quindi quindi ho trovato una cosa che si chiama mob farm ah interessante mi piace allora ci serviranno un po' di cosine tipo dei libri dei pezzi dei mostri probabilmente sbobbit già c'ha qualcosa intanto io scavicchio un pochettino allora si pezzi di libri ne abbiamo pezzi di mostri pure abbiamo un bel po' di rotto in flash sbobbit ce le ha le cose mi sa perchè c'è tipo ogni scusa sbobbit gli ho dato una mazzata cose bellissime allora e questa cosa ci servirà non ho capito come funziona in realtà te lo dico anche perchè non so se ci sarà dentro una mucca uno zombie un creeper non lo so però se vuoi io ti posso fare i libri quanti te ne servono allora servono quattro librerie quindi ne servono tantini io intanto faccio la cobblestone ok così e come compito io ti vorrei dare che te raccogli i sassolini ecco va bene allora aspetta che faccio prima sta roba raccogli i sassolini e te li raccogli da te allora non ti permettere ti ho chiesto di raccogliere i sassolini anche molto gentilmente no non mi dispiace ma non hai capito niente come non ho capito niente queste sono le tue librerie spero che ti vadano bene perchè sono di birce penso di sì spero di sì ora allora dunque aspetta un po' mi serve da cuocere una sabbia la devo mettere qui c'ho anche il carbone ma i sassolini da raccogliere intendi qua dietro il nostro blocchetto magico no no questi qui per terra devi scavicchiare vediamo se sbobbita qualcosa uh uh a cosine allora questo 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 ok guarda glieli faccio raccogliere a lui sassolini vai sbobbita allora io ci provo a fare sta cosa ma non so come viene allora dovrebbe essere così mettiamo l'ossicino qui questo qui questo qui non so se c'è un ordine preciso c'è un ordine preciso e allora è aspetta non so se va bene quella libreria ti dico la verità non mi dì eh non mi dì ti prendo l'altra no aspetta 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 allora era com'è aspetta che gli faccio una foto un secondo allora ok ok so come devo fare allora metto la zombie carne qua tu puoi fare veramente cagare a prenderti le cose eh cioè veramente Anna ma come è possibile non è colpa mia bisogna fare l'ordine preciso io non lo so ok qui puoi le librerie una due tre quattro non lo fa tieni prendi queste sono quelle diverse tieni ok aspetta ecco proviamo uno due tre quattro uh uh l'ha fatto e infatti comunque andavano bene anche le altre cioè sempre librerie no non funziona perché guarda il legno è questo qui eh vabbè si poteva fare anche con l'altro dai dai senti ma questo qui è un regalino per te io shide volevo fare una sorpresa ma poi tu sei piombato dicendo oh sono bello sono figo faccio una piattaforma per metterlo eh così è fuori dalle balle che non è che dobbiamo tenercelo addosso questo robo eh ecco piano piano ok vado o lo metti tu no lo metto io me l'hai dato a me lo devi mettere te e che fa sta roba ah ci serve un lasso un lasso un lasso ma e perché ce l'abbiamo eh però prendilo metti il lasso io intanto scavo non lo so a che serve magari tipo attira le creature ma dobbiamo trascinarci dentro qualcosa non lo so può essere eh può essere che ci e voi io ci trascino dentro la vacca aspetta aspetta prova a mettere il lasso dentro perché guarda se ci clicchi ti dice di mettere il lasso ma è vero non è il lasso normale questo no è un lasso lasso aspetta lo cerco aspetta perché ho pensato il lasso mio no 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 lo faccio io lasso allora le slime ball allora i diamanti ce li abbiamo ci serve un lid normale ci servono due slime ball eh ce l'abbiamo le slime ball ce l'abbiamo? eh lo fai tu aspetta ti do i diamanti ti do aspetta li metto qua dentro due diamanti due diamanti poi ci serve ne abbiamo tre sì allora le slime ball le cerco io è pieno di terra ok e poi qui sono le cose qui sono le cose ok spostati eh ok lo fai te sì 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 ci penso io ci penso allora un bel lasso in arrivo eccolo qua lasso in arrivo c'è? sì ok vuoi che lo metto io? eh va bene ok lasciamo allora devo metterlo qua dentro così non lo mette ma come non lo mette? cioè è buono questo? sì è buono infatti non capito forse dammelo a me dammelo a me aspetta tieni forse perché l'hai messo te non lo mette ma forse bisogna legarci una mucca ah sì perché l'asso ciuccia l'oggetto l'ho visto mettilo infatti hai visto oh mio dio se solo avessimo fatto questa scoperta quando ancora il porco lion era ancora vivo che carino e adesso questa cosa guarda c'è una barra di caricamento che man mano ti produce le sue cose senza che lei muoia vedi vedi eh e quindi hai sbagliato perché sotto ci doveva essere una roba per raccogliere però ah perché? eh perché perché sennò dove vanno? le caga fuori e basta le sputa fuori vabbè c'è sbobbit eh però magari fanno stazionare lì cioè vediamo che succede aspetta vediamo che succede se le butta fuori di sotto allora provvediamo ok? va bene intanto io guardo che cos'altro possiamo craftare qualcosa di interessante allora io ho visto che di questi cosi se ne possono fare di diversi anche per i mostri ostili oh mi ha dato la carne eh la butta fuori quindi ok la butta fuori e non so se funziona tipo hopper però eh eh se ce lo metti a fia se ce lo metti sotto penso di sì aspetta faccio una cazza e proviamo? va bene io sto però non lo so se lo possiamo togliere non vorrei che si allora togli il lazzo da sopra cioè da dentro eh l'hai tolto? sì ok l'altro il lazzo non dura all'infinito eh si consuma? eh sì ok ah sbobbit l'ho preso io l'ho preso io ce l'ho io ok allora ecco grazie mettiamo questa qui e poi mettiamo questo aggiuggino eccolo qua secondo te funziona secondo me no? eh penso di sì eh se no come dovrebbe fare uno cioè ci devi mettere pure l'ho preso allora io continuo a scavare qua intanto come vedi sono anche cresciuti il melone la zucca posso farti una buona insalata se vuoi eh eh senza pomodori mi raccomando anche se io veramente c'ho ancora le due dell'altra volta allora sbobbit è maleducato comunque eh ma tu lo sai che ci sono delle magie che si possono fare qui cioè non so come però ci sono delle magie e ho visto che tra gli oggetti si può craftare della roba da incantatore ti prego la voglio cerca enchanter aspetta sono delle cose di una spada uno scudo come si fa aspetta enchanter oh tutto rosa bello guarda che figata come si fa sta roba eh non ne ho idea non ne ho idea e c'è un acceggio che si chiama enchanting apparatus eh faranno così e si fa aspetta si fa col ferro il diamante e questa roba che si chiama arcane stone che si fa con l'arcane brick e noi abbiamo queste cose abbiamo l'arcane brick aspetta quindi dobbiamo fare l'enchanting apparatus fammi vedere come si fa questo enchanting apparatus aspetta controlla però dovrebbe essere facile ci manca solamente quella roba l'enchanted stone roba del genere e con quello poi si possono fare delle cose bellissime si si è facile arcane stone io questa l'ho vista che noi ce l'abbiamo controlla un pochetto perché si fa con la mana gem e una dark void stone qualsiasi tipo di stone insieme a una mana gem e noi abbiamo queste cose ce le abbiamo ti prego ti prego lo voglio troppissimo ti devi levare ti devi levare ti devi mi sposto qui devo svuotarmi l'inventario che qua c'ho un botto di roba te ne devi proprio andare te ne devi ma perché mi cacci vado via perché disturbi il lavoro del maestro dell'arcane slime 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 vaffan bagno no se ci avevamo un lancio potevamo fare lo slime coso eh prendilo prendilo ce n'è uno piccolo lascialo lì allora non tanto non fa nulla ok allora enchanting apparatus dunque sto facendo eh le ho uccisi tutte e tre secondo me questo è buono anche figo da vedere guarda un po' fa vedere no 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 aspetta 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 allora dovremmo fare un'area dedicata esatto dobbiamo estendere magari di legno la faccio io la faccio io no la faccio io perché tu sei incappato qui in mezzo ai boschi ho già deciso la sto facendo allora questa è la mia isola e io decido come viene dove viene dai no ti prego come no tu stai facendo con la terra ma perché voglio fare tipo l'area magica capisci le cose eh ma non è magica con la terra scusa eh ma crescerà una foresta magica incantata non è vero perché ci sono gli alberelli de pioppo non è magico adesso provvederemo metteremo quelli già vieni no perché mi devi rovinare il mio sogno magico guarda che che schifo allora me ne vado via no non te ne andare non te ne andare ti prego allora lo metto eh guarda e mettilo eh beh però mi aspettavo più figo eh che bello che fa aspetta no no perché tocchi le cose ecco qua ferma c'è un altro pezzo oh stai rimettilo a posto rimettilo a posto no lo voglio mettere qui oh porca miseria oh allora credo che si fa in tre parti però non sono proprio sicurissimo quindi so aspetta devo fare fammi vedere fammi vedere allora aspetta cerco di capire ci vogliono altre due parti c'è l'arcane core che secondo me va messo sotto sotto allora fa le teste cose non ho capito niente io continuo a scavare aspetta eh ah ci dovrei essere arcane pedestal e così arcane core sbobbit è un maleducato comunque cioè guarda allora aspetta solleva questo solleva l'enchanting apparati arrivo a sollevare aspetta eccomi qua opla eh mettilo questi ne ho fatti pure due uhuuu ecco ma sono no non ne ho fatti due ne ho fatto uno ma sono uguali pensa a te e questo è un altro che dovrebbe essere il pedestal ma non so se e va messo sotto ma non oh porca mia non so se va messo sotto perché ora mi dice un'altra cosa mi dice che non trova una una recipe quindi forse è giusto e il piedistallo che cosa me ne dovevo fare devo metterlo sopra ma può essere beh è carino non mi sembra che sia adatto no come no secondo me va prima il piedistallo poi sto aggeggio qua di sotto e poi questo sopra aspetta ok aspetta allora questo lo spostiamo quello brava faccio così adesso solleva questo poi mettiamo quello così brava metto qui poi ok ora quello lì questo qui si si combacia poi questo qui dai sembra figo secondo me era più giusto come l'avevo messo io però però va bene no no aspetta ho capito ma che stai facendo un puzzle si belli puzzle aspetta così ecco ma è come l'avevo messo no vedi questo no è così è sbagliato eh eh si non è possibile si che è possibile rimetti come era oh senti fatelo te io continuo a scavare le gemme ma porca miseria oh aspetta ecco così è giusto ora mi dice semplicemente che non abbiamo una 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 resip per l'incantamento capito eh ho capito ma dove la prendiamo la resip eh sto cercando allora questa è una cosa interessante però eh dunque vediamo se l'internet ci fornisce qualche informazione allora io voglio qualcosa di bellissimo tipo un vestito magico eh io ho visto che si possono fare delle cose molto belle però anche dei mostri io qua sto continuando a scavare c'è sbobbit che ciuccia tutto però cioè vorrei un mostro qualcosa di bello non lo so una cosa magica niente eh allora però trovo i diamanti è bello avere i diamanti allora voglio vedere se funziona funziona comunque eh cioè la ciccia e la pelle stanno scendendo giù ma io voglio fare qui Anna allora senti possiamo perché fai così non mi far agitare mi fisso io le cose ho capito ma io ti ho fatto staggeggio dovevamo vedere se funzionava se la ciccia scendeva nella casa oh perché non ti piacciono i miei regali e ti fissi con le tue cose allora sono riuscito a fare una cosa però non so se no io non ci parlo più con te fuori dalla mia isola no 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 aspetta perché è bella ti ho detto fuori dalla mia isola aspetta ho fatto una cosa non so come ho toccato con le gemme guarda che cosa è uscito questo non so cos'è non lo so cioè la faccia non lo so Bobbit cos'è non lo so la faccia di un leone allora l'ho fatto non strillare cos'è oh ma è un animale ma è bellissimo si chiama carbuncle bellissimo mamma mia mamma mia ce l'ho in braccio hai visto hai visto tramite questo torre di incantagione che cosa ti ho fatto e ce n'è altri eh di questi così qui ci sta ci sta un whelp poi ci sta un wixie un zilf un dingringhi e basta non me ne frega come si chiama non li voglio tutti sono tipo pokemon si mi sa che questo prende roba eh aspetta aspetta provo a scavare no quello è il Bobbit è lui un ragno ferma non lo ammazzare non lo ammazzare no no ammazzalo fa male fa male ammazzalo ok allora senti eh non mi posso fidare di te eh no ma fai fare il lavoro a sbobbit che quest'altro imbecille non prende nulla dice che sta eh raccogliendo zero no sta raccogliendo oggetti da zero ah questo raccatta la roba Anna lo devi mettere al lavoro ma in che e non so come si fa eh ci vorrà una bacchetta per dargli gli ordini tipo eh pure mamma mia allora senti bisogna che ti informi su ste cose perché cioè non è che mi puoi dare queste cose magnificenti però poi non sappiamo come funzionano eh eh lo so eh ci vorrà una frusta non ho idea ma no come la frusta non so cosa bisogna fare cioè però però so allora io voglio creare una foresta per questo creaturino ma chi se ne frega lo mettiamo al lavoro altro che foresta allora tu mi hai rotto le scatole tu sei un ospite ma che io e sai cosa dicono che l'ospite è come il pesce dopo qualche giorno puzza vabbè ho fatto da solo perché sei antipatica e imbecille non pensavo che avresti preso la lettera dove sei sto ancora cadendo aspetta eh Lion sto cercando di smettere di cadere ecco dove sei non ti vedo ahia salve adesso non rompermi le palle devo fare una frusta per quella arnese dai allora fatti un animaletto per te allora ma no ma dobbiamo frustarlo non voglio frustarlo perché bisogna frustarlo dai perché sicuramente così fa le cose sue allora io però ti avevo dato un compito cosa volevi che prendevo la pietra ce l'ha Bobbit non ce l'ha sbobbit come no ce l'ha sbobbit controllo se non ce l'ha marrabbio eh o l'ho preso in braccio aspetta ecco non ce l'ha to che palle te te guarda qui quanta roba guarda che guarda che l'ha presa lui di nuovo l'ho preso adesso non ce l'ha lo ammazzo adesso no no l'ho presa io l'ho presa io l'ho presa io perché devi prendere trattare male le nostre creaturine eh perché te l'ho ammazzo quel coso ma l'hai fatto te aspetta forse ho capito eh dov'è quell'altro schifo allora uno non è uno schifo si dov'è però è morto non è morto ah eccolo ce ne serve ancora di sassolini allora questa cosa eh no eh che cosa provo a cliccare con l'albero non oh ah lion i suoi esperimenti e anche oggi allora lui fai lì fai beh no allora però è giusto perché dice no aspetta secondo me allora aspetta aspetta allora tu nella cassa ma come nella cassa cosa significa questo no 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 prova prova con le coltivazioni va bene allora tu no aspetta tu ma non è che lo devo fare io visto che l'ho messo io nella cassa nella cassa nella cassa le melone posso 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 aspetta no perché dice taking item from zero location guarda che mi sa che lui raccatta solo certe cose tieni puoi fare quello che vuoi però mi sa che ok questo si chiama tu questo qui dentro è una magia adesso aspetta tu questo si qui dentro guarda che secondo me questo raccatta cose magiche allora io ho visto un'immagine eh mi sa e mi sa di si eh mi sa che raccatta le robe magiche questo pezzo di allora innanzitutto pezzo di niente perché non lo devi trattare male oh intanto la mia missione di avere la cobblestone è fallita perché tu non mi hai aiutato comunque in teoria dovrebbe raccattare i crops cioè guarda che veramente eh dammi la la bacchetta di controllo tu questo no forse perché non è cresciuto oh che arriva sbobbit se l'ho preso lui cioè però sbobbit datti una regolata perché veramente sei invasivo sei un lago secondo me dovremmo fare più avere più cose per fargli raccattare perché siamo poveri forse cioè abbiamo due aiutanti e niente da fare praticamente ma infatti la devi smettere di produrre abitanti e aiutanti qua eh ma sono utili eh non è vero perché una cosa volevo fare e non mi ha aiutato neanche oh come no volevi fare quella cosa lì della mucca eh sta lì aspetta è successo qualcosa un attimo hai trovato ogni tipo di gemma nel mondo oh davvero oh è vero guarda le ho tutte eh bellissimo perché c'è un diario delle gemme si te l'avevo detto anche l'altra volta quando tu hai detto ah si si certo come no guarda le ho prese tutte fichissimo bello non è vero me ne manca una Anna eh ti uccido ti uccido ti uccido tanto tu hai hai quella a fare no Anna dove è andato al prossimo video ciao no no adesso torna aspetta eccolo l'ho visto passare mi sa eh eccolo lì guardalo no sei tu quella a me è morto no eccolo eccolo no eri tu di nuovo